La migrazione ci riguarda. In Svizzera arrivano persone da tutto il mondo. Chi per turismo, chi per chiedere asilo, chi per lavoro, chi per ragioni familiari o per amore. Noi siamo qui per loro. La Segreteria di Stato delle Migrazioni stabilisce chi può entrare, vivere e lavorare in Svizzera. Di questi aspetti si occupano i nostri 1200 collaboratori della centrale di Berna e delle altre sedi in tutto il paese. Chi vuole stabilirsi in Svizzera deve avere documenti di viaggio validi e ottenere un permesso. I cittadini di Stati membri dell'UE o dell'ALS lo ottengono più facilmente rispetto alle persone provenienti da altri Stati. Chi vuole lavorare in Svizzera deve ottenere le necessarie autorizzazioni. I lavoratori provenienti da Stati dell'UE o dell'ALS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. I lavoratori provenienti da Stati terzi sono soggetti a contingenti predefiniti per accedere al mercato del lavoro. Chi è perseguitato nel proprio paese può beneficiare della nostra protezione. La SEM stabilisce chi soddisfa le condizioni per ottenere asilo in Svizzera. Insieme ai cantoni garantiamo un alloggio a chi fugge la persecuzione in patria. Le persone che non hanno diritto a una protezione beneficiano del nostro sostegno per tornare nel paese di origine o di provenienza. Chi ha diritto di vivere e lavorare in Svizzera deve potersi integrare bene nella nostra realtà. Noi coordiniamo i programmi di integrazione della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e sosteniamo diversi progetti integrativi. Gli stranieri bene integrati possono acquisire la cittadinanza svizzera. A livello federale siamo noi responsabili per la naturalizzazione. La SEM è il centro di competenza per l'asilo, la migrazione e l'integrazione in Svizzera e rappresenta la Confederazione nel quadro del dialogo politico in materia di immigrazione, in seno a diversi organi a livello sia nazionale che internazionale. Una politica migratoria funzionante è essenziale per il bene della Svizzera. Favorisce il benessere del nostro paese poiché dipendiamo dalla manodopera estera. Garantisce protezione ai perseguitati come vuole la tradizione umanitaria della Svizzera. Una buona politica in materia di integrazione favorisce la coabitazione della popolazione locale e degli immigrati in modo che tutti si sentano al sicuro e a casa loro nel nostro paese. L'essere umano è sempre al centro. La migrazione ci riguarda.